Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze ci sono code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla FIPILI code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Guidare con prudenza per la neve in A15 tra Pontremoli e Parma Ovest. Per la viabilità cittadina Firenze è in corso il preesercizio della linea T2 della tramvia. I tram viaggiano senza passeggeri simulando il futuro servizio tra unità e Peretola Aeroporto. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!